A seguito delle dichiarazioni relative al femminicilio, la condottrice di forum, Barbara Palombelli, si scusa, va a chiarire queste dichiarazioni dopo che pochi giorni fa è stata letteralmente travolta da furiosi polemiche e è finita letteralmente nell'occhio del ciclone. La donna ha fatto sapere che non si è spiegata molto bene e la colpa è soltanto la sua e basta. Di senso, di tutta la sua responsabilità, si è fatto sapere di recente a Radio A Nostop News di Radio 202 e 5. Era stata accada di recente a parole social per le relative affermazioni sul femminicilio, ma ecco che lei stessa ha deciso di scusarsi di assuversi tutte le sue responsabilità in base a quelle frasi che ha pronunciato. Detto questo, vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione, e forse un atto dovuto quello che di recente ha compiuto la bella, brava e simpatica Barbara Palombelli per quanto riguarda la vicenda che l'ha tristemente travolta. Il video termina qua, iscrivetevi al canale che è un narratore italiano, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate, un saluto regalo a voi e al prossimo video.